Ci potrebbe essere una donna coinvolta nella scomparsa del pensionato favarese, Luigi Pirrera, 68 anni, di cui non si hanno più notizie la domenica scorsa. I carabinieri hanno arrestato Rita Saieva, 61 anni, di Favara. Le indagini dei militari dell'arma sono concentrate ad una cerchia stretta di conoscenti, dalla quale farebbe parte appunto anche la donna. Nel corso della perquisizione domiciliare a casa di Saieva, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 22 e 72 proiettili dello stesso calibro. L'arma è stata inviata al laboratorio del nucleo investigazioni scientifiche dell'arma, dove sarà analizzata. Per il momento la donna è accusata solo di detenzione illegale di arma da fuoco, ma alcuni riscontri investigativi porterebbero a pensare che qualcosa legasse Rita Saieva con Luigi Pirrera. Alla favarese, comparsa davanti al jeep Stefano Zammuto, per l'udienza di confalida del fermo, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Intanto un telefono cellulare, di cui la famiglia sconosceva l'esistenza, è stato rinvenuto all'interno della macchina del pensionato, ritrovata parcheggiata nei pressi dello stadio comunale. L'uomo avrebbe tenuto il telefonino nascosto all'interno dell'abitacolo della vettura. Pirrera domenica mattina è uscito di casa intorno alle 9 del mattino, ha preso l'auto e da quel momento gli sono perse le tracce. Vane tutte le ricerche dei carabinieri che continuano ad interrogare conoscente parenti dell'uomo.